Facciamoci una fantasia insieme, Giorgetti diventa leader del Carroccio. A quel punto diventa facile, possibile, interessante dialogare con la Lega? Di tutte le fantasie che possiamo farci, quella su Giorgetti mi sembra la meno probabile. In effetti mi sono messa quanto mentre lo dicevo che prestavo il fianco, però non importa. Diciamo che il confuso conte con Draghi, le fantasie, la giornatuccia. Allora, veniamo alla sostanza. Penso che la Lega abbia una divisione profonda al proprio interno. Questa divisione profonda che ha la Lega dovranno vedersela tra di loro. Poi io penso che chi dà per morto Salvini esagera e sottovaluta Salvini, che comunque è un animale politico, soprattutto in campagna elettorale. Dall'altro lato che la Lega dei governatori e di Giorgetti, ad esempio, sul Green Pass, avesse ragione e Salvini avesse torto è un dato di fatto. Perché la posizione di Zaia, Fedriga, mi aiuti chi c'era, ovviamente di Giancarlo Giorgetti, era una posizione ragionevole e di buonsenso. La posizione di chi diceva no al Green Pass era una posizione allucinante. Grazie.